laudetur jesus christus cari amici tele radioascoltatori e pierluigi bianchi cagliesi che vi parla per il nostro commento del giorno la forza della verità cari amici ha una potenza che è inimmaginabile e veramente qualche cosa che capiremo sempre di più col passare del tempo se avremo il coraggio di testimoniarla con forza con coerenza con determinazione in questo momento decisivo ebbene ci sono dei segnali sempre più interessanti di come emerga sempre di più la forza il coraggio dei testimoni della verità tra cui il primo ministro ungherese orban che proprio in questi giorni ha voluto fare un intervento molto significativo di risposta a una serie di accuse e anche di azioni pretestuose vergognose che sono state lanciate contro di lui dal finanziere george soros e in cui appunto su un sito che si chiama project syndicate il finanziere soros e praticamente esortava l'unione europea a resistere al veto ungherese e polacco sulla clausola dello stato di diritto che era contenuta nella legge di bilancio europeo e in questo articolo soros è arrivato ad affermare in merito a victor orban e a yaroslav kaczynski che è polacco che per loro dice soros lo stato di diritto rappresenta un limite pratico alla corruzione personale politica e quindi il veto è una scommessa disperata di due trasgressori seriali no parla il linguaggio il linguaggio che usano certi personaggi no legati al mondo del crimine e vedete george soros non si capisce che mandato abbia a livello politico per suggerire all'unione europea come comportarsi con due stati membri e soprattutto sovrani e arriva anche a spiegare una possibile soluzione per aggirare il veto e ha dichiarato che in caso di mancato accordo su un nuovo budget il vecchio budget che scade alla fine del 2020 viene prorogato su base annuale quindi l'ungheria e la polonia non dovrebbero ricevere alcun pagamento nell'ambito di questo bilancio perché i loro governi stanno violando lo stato di diritto avete capito no parla lui di violazione dello stato di diritto ma comunque victor orban che è un personaggio politico cattolico di grande respiro e di grande coraggio sempre su questo sito no praticamente ha risposto per filo e per segno e a queste accuse pretestuose che gli ha rivolto soros ebbene vi leggo solo la parte centrale di questa bellissima dichiarazione di questa presa di posizione del ministro ungherese del primo ministro orban che dice questo e rispondendo a soros nel corso della storia le nazioni dell'europa hanno sempre rappresentato la sua forza sebbene di origine diverse le nazioni europee hanno condiviso le radici comuni della nostra fede il fondamento delle nostre comunità è stato il modello familiare europeo che a sua volta si basa sulle tradizioni giudaico cristiane ed è stata la libertà cristiana a garantire la libertà di pensiero e di cultura e a creare una concorrenza positiva tra le nazioni del continente e questa magnifica fusione di contrasti ha reso l'europa la potenza leader del mondo attraverso secoli di storia ogni tentativo di unificare l'europa sotto legge da di un impero è fallito così l'esperienza storica ci dice che l'europa tornerà ad essere grande se le sue nazioni diventeranno di nuovo grandi e resisteranno ad ogni forma di ambizione imperiale ancora una volta potenti forze si stanno muovendo per sradicare le nazioni d'europa e unificare il continente sotto legge da di un impero globale il network di soros che è penetrato nella burocrazia europea e nella sua elite politica lavora da anni per rendere l'europa un continente di immigrati oggi il network di soros che promuove una società globale aperta cerca di abolire i contesti nazionali chiaramente no si rifà proprio al progetto nuovo ordine mondiale è la più grande minaccia che gli stati dell'unione europea abbiano mai affrontato gli obiettivi del network sono evidenti creare società aperte multietniche e multiculturali accelerando le migrazioni e smantellando il processo decisionale nazionale mettendolo nelle mani dell'elite globale continua orban dicendo che l'unione europea vive molte difficoltà in questo momento dal 2008 una crisi economica di proporzioni mai viste da generazioni e dal 2015 una crisi migratoria dal 2020 una devastante pandemia globale l'europa non si è ancora ripresa dalle sue precedenti crisi quindi l'impatto della pandemia di coronavirus ha il potenziale per indurre una crisi addirittura superiore alle precedenti ci sono già segnali evidenti in molti paesi il debito pubblico i tassi disoccupazione la situazione economica generale hanno raggiunto livelli critici la necessità di una solidarietà europea di nazioni europee che si uniscano per aiutarsi a vicenda non è mai stata così forte durante tutte queste crisi lo speculatore soros che si definisce filantropo non ha considerato gli interessi dei cittadini europei ma agito a proprio vantaggio come dimenticare quando attaccò il fiorino ungherese e la più grande banca ungherese durante la crisi economica e quando pianificò di accelerare distribuire finanziare il reinserimento degli immigrati durante la crisi migratoria e ora propone che gli stati membri si puniscano a vicenda invece di promuovere la solidarietà e l'assistenza reciproca il network dice ancora orban diretto da george soros ora nemmeno esita più ad esercitare un'ingerenza evidente vuole mettere più pressione che mai sugli stati nazionali sta mettendo i popoli d'europa uno contro l'altro il sistema operativo del suo network è labirintico ed è presente in vari scenari della vita pubblica sul libro paga di george soros c'è una lunga lista di politici giornalisti giudici burocrati agitatori politici mascherati da membri di organizzazioni della società civile e sebbene il miliardario accusi tutti i suoi nemici di corruzione come in questo caso lui stesso è l'uomo più corrotto del mondo paga e corrompe chiunque sia possibile quelli che non può corrompere vengono calugnati umiliati intimiditi e distrutti dalla sua rete attraverso una formidabile arma i battaglioni mediatici di sinistra molti burocrati di altro profilo dell'unione europea lavorano con il network di soros per creare un impero unificato vogliono costruire un sistema istituzionale che sotto legida della società aperta cerchi di imporre il pensiero unico una cultura unica e un modello sociale unico alle nazioni libere indipendenti d'europa cercano di revocare il diritto di ogni popolo di decidere il proprio destino questo è anche lo scopo della loro proposta sullo stato di diritto che in realtà non riconosce lo stato di diritto ma di forza sarebbe più onesto chiamarlo dominio della maggioranza le differenze tra noi sono evidenti soros vuole una società aperta mentre noi vogliamo una società sicura secondo lui la democrazia può essere solo liberale mentre noi pensiamo che possa essere cristiana sentite che al coraggio ancora di dire che per lui per soros la democrazia per scusatemi per orban la democrazia può essere deve essere cristiana secondo lui dice orban la libertà può solo servire all'autorealizzazione mentre noi crediamo che la libertà possa essere usata anche per seguire gli insegnamenti di cristo per servire il proprio paese per proteggere le nostre famiglie la base della libertà cristiana è la libertà di decidere e questo è ora in pericolo pensate questo passaggio cari amici secondo soros la libertà può solo servire all'autorealizzazione mentre noi crediamo che la libertà possa essere usata anche per seguire insegnamenti di cristo per servire il proprio paese per proteggere le nostre famiglie la base della libertà cristiana è la libertà di decidere che ora è in pericolo e noi della parte orientale dell'unione europea sappiamo molto bene cosa significa essere liberi la storia delle nazioni dell'europa centrale è stata una lotta implacabile per la libertà contro i grandi imperi una battaglia ripetuta per conquistare il nostro diritto di decidere i nostri destini in prima persona abbiamo amaramente sperimentato che ogni tentativo imperiale ci ha portati alla schiavitù i leader i leader occidentali che hanno vissuto tutta la loro vita in un mondo dove hanno ereditato la libertà e lo stato di diritto ora dovrebbero ascoltare coloro che hanno combattuto per la libertà e che sulla base delle loro esperienze di vita personale possono distinguere tra lo stato di diritto e la tirannia o lo stato assoluto tali leader occidentali devono accettare che nel ventunesimo secolo non rinunceremo alla libertà che abbiamo ottenuto combattendo alla fine del ventesimo secolo la battaglia a favore o contro il nuovo impero di bruxelles non è ancora stata decisa bruxelles sembra arrendersi ma molti stati nazionali continuano a resistere e se vogliamo preservare la nostra libertà l'europa non deve soccombere al network di soros victor orban cari amici che bello sentire questi riferimenti che bello avere la forza il coraggio di testimoniare la verità di affermare la verità di cristo e del cristianesimo in un mondo che non vuole nemmeno più sentirlo nominare eppure ricordiamo queste parole meravigliose no quando soro e quando orban ci dice che anche la libertà è anche quella di essere seguaci degli insegnamenti di cristo per poter servire meglio il proprio paese per poter proteggere le famiglie e anche mantenere la libertà di decidere che ormai è in pericolo ricordate quel passo dei promessi sposi di manzoni quando durante la peste di milano del 1630 a un certo punto coniò manzoni una frase molto interessante che dice così il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune quel senso comune vedete che oggi riecheggia in tutti i modi da una parte all'altra in base proprio a questo principio del politicamente corretto e vedete che altri personaggi coraggiosi anche cattolici come l'arcivescovo l'arcivescovo naib michael moussa arcivescovo di mossul che è un vescovo coraggioso cosciente di quello che sta capitando in questo momento in europa proprio in una recente dichiarazione ha dichiarato che l'europa in questo momento ha una grandissima parte di responsabilità e l'europa ha sbagliato a tagliare le proprie radici spirituali e culturali perché così si è indebolita irreversibilmente e un albero senza radici non può che seccare e morire cari amici teleradioscoltatori secca e muore un'europa che ha tradito gesù cristo un'europa che gli ha voltato le spalle un'europa che non ha più neanche il coraggio di nominarlo ma noi che vogliamo difendere la verità e che vogliamo rimanere fedeli al nostro signore costi quello che costi affermando la verità contro tutto e contro tutti in questo momento di tradimenti di infingardi di persone che si vendono per un piatto di lenticchie noi confidiamo in colui che la nostra forza che è la via che la verità e la vita e che attraverso le parole della santissima vergine ci ha promesso irreversibilmente la sicurezza del trionfo del cuore immacolato di maria l'instaurazione della civiltà cristiana che andrà a ramificarsi e a radicarsi sempre più profondamente sulle ceneri di un'europa che ha costruito un progetto contro dio la nuova europa sarà cristiana la nuova europa sarà tutta cattolica profondamente impregnata dei valori cristiani che stanno già germogliando rigogliosamente che presto vedremo svilupparsi in una maniera grandiosa appena il signore farà crollare di fronte a noi questo gigante dai piedi di argilla costruito unicamente sull'errore e sulla menzogna e a tutti voi cari amici teleradioscoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti grazie a tutti